Il complesso di Piazza Grande è il cuore della città di Pietra e su questo non ci piove. O almeno così dovrebbe essere dopo i lavori di restauro e consolidamento da circa un milione e 250 mila euro terminati lo scorso aprile con una partecipata cerimonia inaugurativa. E invece l'acqua è tornata ad insediarsi sotto le volte della piazza Pensile e Ugubina, finendo nei locali dell'Università dei Muratori nella sala adiacente La Cucina. Le infiltrazioni si sono verificate solo su un arcone, il primo partendo dal Palazzo dei Consoli, spiega l'assessore ai lavori pubblici Spartaco Cappannelli, in corrispondenza della metà della volta nel punto più alto verso la scalea. Il problema si è verificato lì a seguito delle consistenti piogge dei giorni scorsi. Le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti ma ora ci si chiede se possa questo giustificare tale situazione dal momento che i lavori della piazza soprastante hanno riguardato soprattutto l'impermeabilizzazione e il drenaggio delle acque. Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo preliminare alla presenza del Presidente dell'Università dei Muratori Giuseppe Allegrucci e di Jonas Orlandi, responsabile unico del procedimento, ha riferito ancora l'assessore Cappannelli. È stato un sopralluogo che potremmo definire propedeutico dal momento che partiranno le PEC rivolte alla direzione dei lavori e alla ditta che li ha eseguiti. Quello che è necessario in prima istanza è verificare cosa si è accaduto, anche attraverso documentazione fotografica e relazioni. Domani saranno tutti convocati ufficialmente e vedremo come procedere. È necessario capire da dove passa l'acqua. Attualmente non goccia più ma è possibile che con ulteriori piogge la situazione possa ripetersi, ha sottolineato il Presidente dell'Università dei Muratori Giuseppe Allegrucci. Perde sulla volta ma l'infiltrazione potrebbe essere altrove e al momento non abbiamo una risposta precisa. Chiosa Allegrucci. Nella giornata di domani dunque ci sarà un nuovo incontro per fare il punto della situazione. Dobbiamo agire subito, ha concluso l'assessore Capannelli e con una certa urgenza dal momento che c'è anche in ballo tutto il progetto del Museo degli Antichi Umbri.